Gabriele Piantoni, ala del Feralpi Salò che ha battuto per 1-0 la Provercelli. È la tua seconda gara se non sbagliamo? Sì, è la seconda partita che faccio dall'inizio. Era un po' di tempo che non giocavo più, quindi speravo di disputare una buona partita. E' andata bene per tutta la squadra. L'importante era vincere per continuare questo sogno e adesso cerchiamo di arrivare fino in fondo. Sei un bergamasco e sei cresciuto nell'Albino Leffe. Sì, sono cresciuto nell'Albino Leffe, poi ho fatto due anni a Prato e quest'anno sono venuto qua a Salò. E che ti ha lanciato nell'Albino Leffe? Ho fatto la primavera con Mr. Madonna che poi mi ha portato su e poi ho avuto allenatori importanti come Mondonico e Gustinetti da cui ho imparato tanto. Come giudichi la tua stagione a Salò? Cerco sempre di dare il massimo, purtroppo non ho avuto molte occasioni di giocare, però questo è anche perché davanti ho grandi giocatori come Quarenghi, Graziani e tutti gli altri attaccanti. E quindi, insomma, io cerco sempre di dare il massimo, poi aspettando il mio momento e quando vengo chiamato in causa cerco di fare il possibile. Che voto ti daresti oggi? Ma sei e mezzo, dai. Sei abbondante. Eh, sempre stare alti, dai.